Good morning ragazzi ed eccoci qui con un nuovo video di FCHM Tech In questo video cercheremo di fare un po' di video di gameplay di Destiny Gli squaiatori psionici? Ma sono parenti dei Bolton per caso? Ma è quello di Anastasia? Ok va bene dai, in pratica dobbiamo arrivare sul pianeta e uccidere tutti Ma dove sono tutti? Ne l'ho sciato indietro Oh ma posso volare che figo Volare Eccoli, granata Ok uno è morto Vai vai vai, ti rianimo Ma chi è quello lì? È enorme Oh, headshot ragazzi Un altro morto Come faccio ad ucciderli? Ci penso io Headshot ragazzi, che colpo Una granatina Bam, due in un colpo Mi occupo io di quello grosso Un altro grosso Dove è andato? Vai 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 Oh Bobussetto te Adoro quando spariscono così Oh Fuori uno Due Granatina Boom Oh questo è grosso Mano male che c'è la bolla Indistruttibile Fuori uno Bah Chi arriva adesso? Al mio segnale Scatenate l'inferno Via Bam Ok Ok Praticamente è morto Mi abbia sparato tutto quello che avevamo Non è morto ancora Aiuto 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 Ok ok ce l'ho fatta Oh no mi ha seguito Ah Bam Colpo in testa Andiamo a salvare il mio amico Arrivo 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 Resisti Ok questo è grosso Via 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 Salta Oh cavolo Ma è ancora vivo Non era morto Ok ora è morto Uffa questi con lo scudo li odio proprio Oh ciao Oh no 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 cavolo sto per morire Via 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 Bolla Indistruttibile Oh cavolo possono entrare Dai muori Vai vai Spara E Mori Quanti colpi devo darti? Ok Ancora tu Si nasconde sempre dietro a questo tubo Ultimo guardiano Attenzione Dai dai Ti rianimo Bravissimo Un po' di cecchinate Qua e là Ma dobbiamo ancora uccisere L'ultimo sfogliatore psionico Non ne voglio proprio sapere No Ragazzi Uff dai 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 Rianima Bravo Voilà Dai ci abbiamo così fatto No Come ho fatto a morire? Non mi hanno neanche colpito Ah basta Dai 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 Che è così morto Yeah Anche il terzo è morto Guardia che gli sfogliatori sono morti Ma cosa sta facendo quello lì? Sull'attenti Olè Moonwalk Olè Vediamo nessun potenziamento Un po' dai due o in grammi Non male Ma neanche benissimo Quindi ragazzi Come al solito Se vi è piaciuto il video Mettete un mi piace Fate un commento E mi raccomando Condividete Iscrivetevi anche alla pagina facebook E al canale youtube Per altri video Ci vediamo Nel prossimo video